Siamo giunti al termine delle tre settimane previste con l'Accademia Scuola Parrucchieri Viennesi. Fin da subito abbiamo impostato degli obiettivi ben predefiniti e grazie alle lezioni del nostro maestro Ivano Begnogna siamo andati a lavorare nell'immediato sulle testine con forbice e macchinetta, fin da subito sviluppando una nostra tecnica ben predefinita. Abbiamo da subito individuato un metodo che ci permettesse di effettuare e elaborare istantaneamente le informazioni dateci dal nostro maestro, quindi siamo andati subito a lavorare su una testina, siamo stati spenti da una forte motivazione a causa del poco tempo previsto, abbiamo da subito concentrato varie tecniche predefinite per ottenere i risultati che al termine delle tre settimane sono un taglio preciso, abbiamo realizzato le varie tecniche di sommatura, rasatura, taglio. La bellezza che oggi stiamo vivendo a fine corso non fa altro che consolidare quello che erano le nostre aspettative, il metodo che funziona, che si lega alla volontà dell'allievo. Siamo stati fortunati a trovare un gruppo compatto che ha seguito le direttive, non ha tralasciato nulla e quindi nell'arco di tre settimane siamo riusciti ad ottenere degli ottimi risultati. Questo naturalmente è di buon auspicio a tutti e tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla nostra professione capendo che se c'è di base la buona volontà il resto lo mettiamo noi con il nostro metodo, perché è un metodo che si divide da una parte pratica e dall'altra parte che sa guardare il desiderio e lo scopo dell'umano, quindi della persona e quindi dell'allievo. Grazie